Buongiorno a tutti e benvenuti al settimo episodio di Gtalks. Io sono Marco Burattino e faccio parte di Guideware. Nel corso del primo episodio avevamo parlato di Purpose come comune denominatore di due trend che avevamo osservato. Il primo, relativo al mercato globale, parte con il fenomeno che McKinsey ha battezzato come Great Resignation, ovvero il boom delle dimissioni osservate nel periodo pandemico e post-pandemico, e poi è proseguito con lo studio di modelli organizzativi alternativi basati su dinamiche antigerarchiche e su leadership definibili come gentili. Il secondo fenomeno, osservato invece sul mercato assicurativo italiano, fa riferimento alla forte crescita del mercato salute osservata negli ultimi anni. Questi due trend apparentemente distanti e lontani tra loro, in realtà li vediamo legati da un filo conduttore che è una conquista, ovvero la comprensione del fatto che diventa prioritaria e essenziale la tenuta mentale come valore all'interno della vita e anche del lavoro. Quindi si capisce da qui come questo tema stia diventando centrale in tanti contesti. Pensate che addirittura a Londra di recente hanno aperto dei negozi di barbieri in cui coloro i quali operano i tagli dei capelli si occupano anche di sfoltire le ansie dei clienti attraverso appunto counseling e mental coaching. Da qui si capisce appunto quanto il purpose può essere importante, però per arrivare a definire questo, a spiegare questo concetto è importante fare una premessa e soffermarci sulla definizione del concetto di purpose all'interno di un'organizzazione e facendo anche una precisazione. Il purpose è l'idea primordiale alla base di un'impresa, il motivo per il quale essa esiste e il problema che vuole risolvere. Se vogliamo diventa addirittura più importante del profitto. Il profitto in un'impresa con purpose diventa una conseguenza e la fine di un circolo virtuoso. Per quanto riguarda invece la precisazione, spesso si assimila al purpose un concetto di natura etica, che però non è necessariamente legato a questo tema. Piuttosto quello che possiamo dire è che il purpose deve essere alto. Alto si intende qualcosa che si è in grado di far sognare le persone, di motivarle, di spingerle verso una fidelizzazione, siano essi dipendenti di questa impresa o clienti della stessa. In un'epoca che è sempre più caratterizzata da un contesto di incertezza. Sì, l'incertezza è fondamentale. Noi stiamo entrando, siamo entrati nella terza decade del nuovo millennio. La seconda è stata fortemente caratterizzata dalla comprensione, dall'attestazione del fatto che la risorsa limitata era il tempo. Abbiamo parlato per tanto tempo di economia di velocità. Economia di velocità quindi nella quale era necessario adattarsi il più velocemente possibile dei cambiamenti che erano sempre più veloci. La terza decade del nuovo millennio invece si è aperta con l'assalto al Campidoglio negli Stati Uniti e forse questo ci sta dando una misura di quella che è una transizione da una risorsa limitata a un'altra risorsa limitata, probabilmente addirittura in via di estinzione. La verità. In un'epoca dominata dalle fake news, nella quale l'intelligenza artificiale è capace di creare immagini fotografiche che assomigliano in tutto e per tutto a un essere umano ma non fanno riferimento a un essere umano. Un'epoca in cui non riusciamo neanche più a metterci d'accordo su temi trasversali e oggettivi per tutti come la pace, può essere forse che sia il purpose una bussola da guardare per arrivare, non dico alla verità ma almeno a qualcosa che in buona fede ci sembra giusto? Parliamo oggi di purpose insieme a Vittorio Giusti Vittorio Giusti è un executive poliedrico con una continua voglia di imparare e di migliorarsi In questo momento si occupa di tematiche che sono al centro dell'incrocio esistente tra assicurazioni, psicologia e tecnologia e chiunque abbia ascoltato una delle puntate precedenti di Gtalk sa benissimo quanto questo incrocio ci stia a cuore. Benvenuto Vittorio, grazie di essere qui Nell'introduzione alla puntata ho fatto leva sull'aspetto della tua poliedricità, la ricchezza delle esperienze che fai e vorrei affrontare il tema purpose insieme guardando un po' anche, sfruttando questa ricchezza di esperienze che hai avuto Vorrei quindi partire col tuo cappello di amministratore delegato di compagnie di assicurazione per chiederti perché è importante che una compagnia assicurativa abbia un purpose in relazione al mercato che serve e ai clienti che vuole soddisfare Ciao Marco e grazie per l'invito a partecipare a Gtalks Parto proprio da questo punto Perché è importante che una compagnia assicurativa abbia un purpose, uno scopo? Perché secondo me per troppi anni diciamo il messaggio che è passato ai nostri clienti è abbiamo ottimi prodotti, siamo molto veloci nella liquidazione dei sinistri ti facciamo fare un preventivo in tre clic siamo semplici, cerchiamo la semplicità ma in realtà c'è molto di più non basta più dire queste cose perché questo è il cosa facciamo e come facciamo il nostro messiere di assicuratori ma c'è qualcosa di più profondo, di più importante per legare un cliente a un brand che è il perché lo facciamo perché facciamo il mestiere di assicuratori ora il senso di appartenenza a un brand sta tutto qui sta in un perché, in una motivazione profonda, in uno scopo alto facciamo un esempio qual è, secondo te, il brand di motociclette più importante al mondo? Harley? Beh, Harley Davidson, no? Mi sembra ovvio allora, sai qual è la mission di Harley? Sai cosa dice Harley? Il suo statement, il suo scopo? Dice Non esistiamo soltanto per costruire macchine ma per l'infinita ricerca di avventura Ora, confrontiamo un attimo questo statement con quello di Kawasaki, no? Grande brand, importante, riconosciuto Sai cosa dice Kawasaki? Dice Il nostro obiettivo è avere clienti che guidano le nostre moto con piacere e in totale sicurezza La vedi la differenza sostanziale? Cioè, uno scopo, io voglio avere clienti e gli do delle buone moto sicure che si guidano con piacere Kawasaki Harley, l'infinita ricerca di avventura Ora, non so, se ti dicessi hai mai visto qualcuno con un tatuaggio del brand Kawasaki sul braccio? No Penso di no Hai visto qualcuno con il tatuaggio di Harley? Cioè, l'appartenenza al brand sta in uno scopo alto e quindi non basta dire sono bravo a fare l'assicuratore ma è il momento di dire perché faccio l'assicuratore Ora, la buona notizia è che anche noi assicuratori da qualche anno abbiamo cominciato a spostare questo purpose, no? L'abbiamo cominciato a avvicinare a uno scopo alto quindi non senti più nessuno dire pago velocemente i sinistri ma gli statement adesso sono al tuo fianco quando hai più bisogno proteggiamo il progresso dell'umanità sto un po' parafrasando alcune cose che, per non citare dei brand ma insomma sono molto simili a questi statement che sentiamo ci prendiamo cura della tua vita e dei tuoi sogni Ora, il problema è che molto spesso, troppo spesso quello che osservo nel panorama delle compagnie di assicurazione che questo enunciato rimane nel dichiarato quindi non lo vedo ancora nel vissuto di un contesto di una relazione con un cliente cioè tutti dichiarano valori altissimi tant'è che molto spesso le dichiarazioni valoriali si assomigliano se andiamo a leggere la sezione our values, our mission, our vision sui siti sembrano tutti uguali poi però bisogna capire come vengono vissuti questi valori io ho fatto un esercizio qualche tempo fa e l'ho chiamato il funnel dei valori un po' come c'è il funnel delle vendite come un valore prospect o un cliente prospect si converte in un cliente attuale così anche i valori prospect cioè quelli dichiarati a livello alto come diventano poi qualcosa di realmente vissuto e testimoniato e che il cliente percepisce con un senso di appartenenza forte ecco quello che ho notato che il dichiarato di scopo il dichiarato di purpose a livello alto molto spesso perde quindi converte si direbbe in un funnel perde in termini di conversione sulla comunicazione che non è efficace che non è fatta con i toni giusti con quei tratti di personalità di brand che sono adeguati quindi c'è un primo punto e perdiamo lì qualche cosa poi c'è la comprensione di questi valori a volte questi statement sono anche troppo alti troppo complessi troppo articolati servono parole semplici concetti che arrivano quindi dopo la comunicazione c'è anche la comprensione ma il punto fondamentale dove si perde veramente il senso del purpose è nella coerenza tra quanto viene dichiarato a livello alto e poi tutti gli artefatti visibili e anche invisibili di una relazione tra una compagnia di assicurazione e un cliente ecco in questi artefatti in queste singole situazioni in questi touch point in questa conversazione con un contact center in questo dialogo con un agente in questa diciamo comprensione o meno della complessità di un documento ecco è lì che perdiamo tantissimo dello scopo alto di una compagnia è lì che si crea una distanza fra il cliente e la compagnia e quindi torniamo ai luoghi comuni gli assicuratori non ti pagano mai i sinistri ecco il grande lavoro da fare è tutto qui parlando di valori non mi riferisco solo a valori etici intendo scopi alti scopi importanti qualcosa che veramente muova le persone nel profondo oggi si fa un gran parlare di ESG di tematiche anche ambientali di governance sociali e quant'altro quello che sto notando è che molto spesso in queste grandi organizzazioni si tende a dire nominiamo un responsabile ESG affidiamo questo compito a un chief qualche cosa officer che si occupa di questo così deleghiamo a qualcun altro ma queste sono materie che non si delegano queste sono materie che si impersonano i valori non si delegano i valori non si impongono i valori si testimoniano perfetto modo di introdurre quello che è il tema successivo è il secondo cappello che ti faccio indossare oggi quello del coach e dello psicologo le assicurazioni da questo punto di vista hanno due elementi di preoccupazione uno quello a cui facevi riferimento tu che è una reputazione che non è proprio perfetta agli occhi dei clienti questa frequenza di disaccordo tra la percezione e questa percezione negativa che talvolta hanno i clienti dell'assicurazione però c'è anche una seconda dinamica che è da considerare sappiamo le assicurazioni tipicamente lavorano in un modello B2B2C quindi sono organizzazioni molto complesse e da un punto di vista di numerosità degli impiegati delle persone e anche da un punto di vista di eterogeneità abbiamo dipendenti tanti dipendenti abbiamo imprenditori come gli agenti che si occupano di distribuzione quindi di vendita quindi estremamente delicato anche rispetto a quello che è la mission aziendale abbiamo altri tipi di professionisti esterni pensiamo ai periti quindi è un tipo di organizzazione estremamente delicato da diversi punti di vista quindi la seconda la seconda angolatura dalla quale vorrei vedere il tema purpose è proprio a livello organizzativo in due versanti primo l'azienda assicurazione come organizzazione quindi il connotato di gerarchie la modalità con la quale i team interagiscono tra di loro eccetera e poi volevo toccare approfondire un attimo il tema che hai anticipato prima relativo al fatto che i valori si vivono a livello di singolo dipendente si testimoniano a livello di singolo dipendente questi due ambiti secondo me sono estremamente delicati perché il purpose non è soltanto qualcosa che ti aiuta sul mercato a essere riconoscibile ma anche qualcosa che tiene stretto a te quelli che sono i talenti e le persone che ti fanno essere un'impresa migliore giorno dopo giorno no? Certamente come tu hai detto le grandi organizzazioni e in particolare le compagnie di assicurazione sono entità particolarmente complesse si basano su modelli rigidamente modelli organizzativi rigidamente funzionali a volte diciamo anzi molto spesso sono addirittura prescritti dal regolatore determinate formalità organizzative e quindi diciamo queste organizzazioni complesse si descrivono e si scandiscono con organigrammi funzionigrammi manzionari quindi qualcosa di veramente prescritto e descritto non a caso parliamo di job description quando dobbiamo assumere una persona quindi definiamo esattamente a monte quello che deve fare e a fronte di questa job description poi appiccichiamo delle etichette alle persone chiamate job title la comunicazione è gerarchica la comunicazione è sempre gerarchica ascendente e discendente stratificata su layer organizzativi le singole funzioni tendono poi a diventare dei silos funzionali appunto dove si creano dei fenomeni molto noti in psicologia dei gruppi e in psicologia delle organizzazioni che è il fenomeno dell'in group versus out group quindi noi della funzione che ne so marketing e gli altri di un'altra funzione li vedi molto spesso trovavo assolutamente divertente le pause pranzo dove li vedevi per gruppi continuavano a stare fra di loro quindi dei silos funzionali di persone non sufficientemente interconnesse tra di loro quindi le organizzazioni tradizionali si fondano su gerarchie verticali e non su dinamiche conversazionali orizzontali questo è un punto è un punto importante quindi a fronte di questa organizzazione tutto si risolve in task management si assegnano dei compiti si esige una sorta di due date quindi esegui questo compito secondo questa descrizione e prescrizione entro questa data tutto questo soffoca se vogliamo degli aspetti di creatività di innovazione di partecipazione fatemi dire anche emotiva della persona al lavoro poi c'è un altro aspetto che va sottolineato le aziende tradizionali le compagnie non fanno eccezione pianificano il futuro attraverso attività quindi di previsione quindi prevediamo che a un anno a tre anni a cinque anni avvenga questo quindi facciamo previsioni di mercato previsioni di rischio previsioni complessive di evoluzione tecnologica di tutto quanto serve per immaginare un futuro a fronte di questa pianificazione a fronte di questa previsione predisponiamo piani di investimento predisponiamo una serie di modalità che portano avanti questa organizzazione ora il problema è che ci stiamo rendendo conto che anche il futuro non è più quello di una volta cioè questo futuro a lungo termine non è più cioè dovremmo essere dei profeti per cercare di capire che cosa succederà fra cinque anni abbiamo visto evoluzioni tecnologiche impetuose abbiamo visto sorprese pandemiche piuttosto che purtroppo belliche quindi situazioni imprevedibili che si manifestano con una turbolenza e con una frequenza sempre più accelerata la tecnologia ne è il caso principale allora il futuro e non è più un futuro a lungo termine il futuro è diventato un futuro istantaneo cos'è il futuro oggi? è una successione una successione di cambiamenti nel presente a fronte di una successione continua di cambiamenti cosa deve fare un'organizzazione? deve essere flessibile e adattiva le persone devono vivere in un contesto ispirate da uno scopo dal purpose di cui stiamo parlando devono avere il trust dell'organizzazione per essere responsabili verso una delivery a fronte di uno scopo alto che cambia continuamente che non può più essere descritta e prescritta e allora la parola chiave di cui secondo me sentiremo parlare molto nei prossimi anni non è la job description ma è il job crafting che è un dire diciamo a una persona al lavoro perché fai certe cose cosa vogliamo ottenere qual è il nostro grande scopo e poi decidi tu come farlo decidi tu quali sono le modalità migliori sulla base delle tue caratteristiche delle tue competenze delle tue attitudini del contesto del momento in cui ti stai trovando il tutto abbiamo visto anche in un mondo che ha abbattuto con una velocità diciamo un'accelerazione ovviamente dovuta alla pandemia ma queste barriere spaziali e temporali dell'organizzazione sono ormai fammi dire superate oggi si parla di lavoro ibrido si parla con questo termine un po' italiano di smart working che infatti gli inglesi non usano l'abbiamo inventato noi in Italia questo smart working che sembra lavoro furbo perché non è un lavoro l'intelligente sarebbe clever quindi è un smart quindi è un modo un po' astuto di starsene a casa no non è così diciamo le categorie aprioristiche se pensiamo a Kant alla critica della ragion pura Kant sosteneva che lo spazio e il tempo sono categorie aprioristiche quindi che vengono prima dell'esperienza umana quindi l'esperienza umana e l'organizzazione l'azienda esistono in quanto contestualizzate in uno spazio e in un tempo mi pare abbastanza evidente che non me ne voglia il grande filosofo tedesco ma tutto questo è abbastanza superato perché la decontestualizzazione spaziale e temporale è diventata ormai quello che molti chiamano il new normal ora a fronte di questa diciamo dispersione sistematica e non occasionale di persone di organizzazioni di dipendenti di assicurazioni perché di questo parliamo dispersi sistematicamente nel tempo e nello spazio qual è il fattore aggregante non è questa storia del torna un po' in ufficio fai mezzo a casa mezzo in ufficio scelgo io scegli tu dobbiamo ricreare un senso antropologico nel lavorare insieme in modalità che sino a poco tempo fa erano addirittura impensate e come ritroviamo il senso di appartenenza come ricreiamo antropologia nei luoghi virtuali perché l'antropologia nei luoghi reali insomma è semplice questa idea che ci incontriamo in presenza per fare relazione è vero è giusto ma se il mondo sta cambiando a questa velocità se le categorie spazio e tempo non sono più centrali o fondamentali o premessa come diceva Kant qual è il fattore cruciale per ricreare appartenenza intorno a una compagnia di assicurazione intorno a un brand è il purpose ancora una volta è uno scopo alto è il sentire che tutti insieme stiamo andando in una direzione e la leadership conseguentemente cambia necessariamente cambia non è più una leadership manageriale command and control che aveva previsto quel piano e che andava a guardare gli scostamenti dal piano accelerando diminuendo costi e ricavi perché il piano doveva tornare sempre in qualche modo e quindi adattavamo il futuro era un altro noi adattavamo con il reforecasting l'azienda al piano oggi è diverso siamo flessibili adattivi e il leader ha un fattore di integrazione il leader promuove la possibilità che le persone si esprimano che i talenti portino molto di se stessi una combinazione di fattori di competenze tecniche e di competenze attitudinali per tutti insieme inseguire un sogno inseguire una visione inseguire uno scopo alto come diceva Harley Davison che dicevamo poco fa quindi l'infinita ricerca di avventura non stiamo noi facendo polizze di assicurazioni noi stiamo immaginando un mondo migliore questo è il senso che dobbiamo ricreare in questo mondo che sta cambiando così velocemente sì mi collego a questa cosa a proposito di leadership perché tempo fa rimasi sorpreso dal fatto che una serie tv che a me la piacereva tantissimo che è Ted Lasso veniva citata in copertina in un editoriale del Financial Times come nuovo esempio di leadership basato appunto non su io sono il più bravo di tutti seguimi ma basato su risolviamo insieme dei problemi non ho paura di esporti le mie debolezze perché so bene che lavorare insieme significa accrescere collettivamente quello che dobbiamo fare quindi io devo in quanto leader il mio obiettivo è valorizzare le risorse che ho a disposizione non necessariamente guidare comunque cambiamo ancora cappello e passiamo invece al vittorio tecnologo parto da una metafora per me la tecnologia rappresenta quello che il terreno rappresenta per l'agricoltura ovvero la cifra del progresso dello sviluppo che un'attività di impresa può avere ho scelto la metafora in un campo che si avvicina alla botanica perché un altro dei cappelli che potresti mettere è quello io ho avuto modo di saperlo in passato però mi interessava a parte la metafora prima di tutto fornire il mio punto di vista che credo che oggi sia indispensabile ma ancora indispensabile che la tecnologia sia una leva anche sulla scrivania dell'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione o di una grande organizzazione e credo però che la tecnologia sia ancora vista sia ancora un po' l'impatto della tecnologia sia ancora un po' sottostimato rispetto a quello che è l'aiuto che può dare all'interno della compagnia se andiamo cinque minuti indietro rispetto a quello che dicevi anche sulle modalità con cui oggi il lavoro viene svolto diciamo basta poco per capire che effettivamente la tecnologia è capace di impattare in maniera molto profonda la vita di un'organizzazione quindi volevo chiederti un punto di vista su questo e diciamo in particolare la tecnologia è un qualcosa che secondo te oggi viene vissuto e compreso a 360 gradi rispetto a quello che è il reale contributo che può dare ma se pensiamo alle compagnie di assicurazioni la tecnologia per molti anni è stata diciamo il motore di un progresso lento di lunghi percorsi evolutivi dove potevamo permetterci anche un certo tasso di inefficienza dove esistevano tutta una serie di legacy esistono tuttora una serie di legacy che impediscono una innovazione radicale quindi in questo contesto e però in cicli di mercato più lenti più lunghi che permettevano alle compagnie di adattarsi con diciamo con una certa tranquillità a queste evoluzioni ecco tutto questo oggi sembra essere cambiato profondamente quindi oggi non possiamo più vedere la tecnologia come una commodity che si ci fa funzionare meglio le cose i processi però tutto sommato non ne abbiamo bisogno che era un po' il leitmotiv degli anni scorsi oggi la tecnologia come dicevo prima è un fattore chiave di successo insieme alle persone per essere flessibili e adattivi a fronte di un continuo incessante cambiamento nel presente come si fa a essere flessibili e adattivi bisogna mettere diciamo in funzione a disposizione dell'organizzazione dei clienti del mercato una combinazione di fattori umani e tecnologici che abbia una velocissima reattività ora prima abbiamo parlato del job crafting della possibilità che le persone diventino velocemente adattive grazie alla possibilità di plasmare e riorganizzare il proprio compito il proprio lavoro senza che più venga diretto dall'alto stessa cosa possiamo dire per le tecnologie le tecnologie devono oggi accelerare il tempo di rilascio in produzione la velocità di adattarsi ecco in tutto questo voi come azienda leader di questo di questo contesto avete una grande sfida davanti di continuare a offrire quella possibilità per se vogliamo il liquidatore mi viene in mente il vostro pluripremiato claim center che ho avuto modo di conoscere ormai da molti anni ecco cosa succede la combinazione di quel fattore umano di quel liquidatore e di quella tecnologia abilitante semplificativa quale miglior equilibrio vita lavoro si crea quale miglior servizio offriamo al cliente quanto quanto possiamo dedicare tempo allo scopo alto che dicevamo prima ai grandi temi dell'assicurazione una volta che abbiamo risolto e abbiamo creato un contesto nel quale molto velocemente andiamo a offrire servizio allora cosa verrà fuori da tutto questo non una tecnologia che soppianta io al liquidatore virtuale ho sempre creduto molto poco così forse per determinati prodotti assolutamente semplici e di massa ma immagino un augmented un augmented human no mi immagino la tecnologia che offre una infinita capacità di calcolo un accesso a una infinita quantità di dati una capacità quindi di augmentation quindi di migliorare la performance umana utilizzando appunto velocità di calcolo e accesso alle informazioni ora questa questa persona trova un nuovo equilibrio e lo fa come dicevamo prima in un contesto nel quale lo spazio e il tempo diventano meno diciamo rigidi e rilevanti come prima in cui l'equilibrio fra vita e famiglia diciamo diventa molto molto positivo e quindi l'appartenenza al purpose allo scopo ancora una volta si amplifica vedo qualche minaccia da tutto questo da questa impetuosa evoluzione tecnologica beh in particolare sto immaginando ecco una delle riflessioni che sto facendo nell'ultimi negli ultimi tempi è legata a quella che io immagino diventerà quella che chiamo la avatarizzazione dell'economia quindi andremo verso una avatar economy quindi abbiamo avuto tutta la la dot com la social economy quindi tutte queste etichette ma stiamo andando verso una avatar economy ma ciascuno di noi il nostro liquidatore che abbiamo citato sguinzaglierà degli alter ego virtuali in alcuni metamondi organizzativi perché potrebbero esserci anche si parla tanto di metaverso ma ci potrebbero essere anche metamondi organizzativi all'interno di una compagnia di assicurazione in cui ciascuna istanza sguinzaglia il proprio avatar il proprio il proprio se stesso duplicato con il compito di esplorare raccogliere informazioni apprendere formarsi comunicare vendere acquistare ecco questa esperienza umana questa relazione uomo macchina anche nelle assicurazioni si sposterà in questi metamondi questa è una sfida no? è una prospettiva che da da assicuratore da psicologo da appassionato di tecnologie trovo tanto avvincente quanto inquietante secondo certi punti di vista però penso che come sempre sono prospettive inevitabili perché perché quello che abbiamo osservato da qualche secolo a questa parte è che la tecnologia grazie alla tecnologia sappiamo fare molte cose e molte più cose e sappiamo farle meglio grazie alla tecnologia ma a causa della tecnologia non sappiamo più come fermare il mondo bellissima questa 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 ultima cosa in particolare Vittorio grazie mille stare qui a parlare una giornata come abbiamo fatto in passato ma il tempo il tempo è scaduto io ti ringrazio per aver partecipato spero che la puntata sia stata di interesse di chi ci ascolta e ci vediamo alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti